Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio della Pokemon Destiny Challenge Ragazzi finalmente e ripeto finalmente sono pronto per iniziare questo fantastico progetto Ragazzi questo progetto sarà settimanale nel senso che i video usciranno una volta alla settimana di domenica alle ore 11 Ma ragazzi se vedo che vi piace tanto tanto e vedo tantissimi mi piace potrei portarla anche più volte alla settimana Detto ciò ragazzi un paio di informazioni prima di iniziare Ho aumentato la difficoltà dei livelli non del 10% non del 20% ma del fottuto 25% In questo modo la serie sarà ancora più difficile e ho deciso di cambiare una piccola regola Nel senso che ogni volta che si batterà una palestra non si otterrà un Pokemon al terzo stadio Bensì un Pokemon random a caso Quindi ragazzi ce l'ho nel culo Mi avete scritto in tanti nei commenti che secondo voi la serie è facile E quindi ho deciso di dare ascolto ad alcuni di voi e aumentare un po' la difficoltà del gioco Sia tramite i livelli che tramite il cambiamento di questa piccola regola Detto ciò ragazzi io sono pronto per vedere il Pokemon random che ci capiterà Per il momento abbiamo l'Apras ma ragazzi la nostra app che come al solito è stronza e non ci paghe Che quindi io non sponsorizzerò perché si sponsorizzano le cose solo se ti pagano e non se ti piacciono Vero OneFootball Ragazzi andiamo a generare il nostro numero casuale da 1 a 151 che è il 146 Che è un leggendario è un leggendario e quindi non vale ragazzi Leggendari non li posso avere a meno che io non utilizzi gli aiuti divini Quindi riproviamo 117 questo è fattibilissimo Ho il Pokédex sul telefono sono attrezzato vorrei non vorrei dire Ah ovviamente ragazzi 117 adesso ve lo faccio vedere scusatemi Eccolo qua spero che si veda abbastanza bene Comunque 117 Andiamo sul nostro Pokédex e vediamo un po' chi è il 117 Mi sto per suicidare Ok oh Sidra Sidra è un buon Pokémon ragazzi Quindi adesso lo andrò a inserire nella squadra Quindi 3, 2, 1 e... Ed eccolo qui ragazzi il nostro Sidra a livello 9 Adesso ve lo faccio vedere vedete già Fossa ragazzi Le mosse sono andate completamente a caso Gli IVS pure Abbiamo ragazzi Psicoraggio, Fossa, Mega Assorbimento e Performacco Le ho messe a caso Ho chiuso gli occhi Sono andato avanti e indietro come un cretino con la rotellina Detto già ragazzi Possiamo iniziare finalmente la nostra avventura Tiro un attimo fuori il regolamento Perché altrimenti non capisco nulla Ragazzi sarà fondamentale Non perdere il primo episodio Perché io voglio assolutamente ottenere Un Pokémon per il prossimo Perché ragazzi dovremo affrontare Brock E io ho veramente paura Allora Vediamo un po' che Selvatici ci sono Golduck Ok perfetto Mega Assorbimento Vediamo Dobbiamo che salire un po' di livello raga Perché essendo la difficoltà aumentata Il nostro rivale che andremo a affrontare adesso E vi ricordo ragazzi Che battendo il rivale Potremo ottenere uno strumento a caso A nostra scelta Al quale non ho ancora pensato sinceramente Però per l'appunto ragazzi Avendo aumentato la difficoltà al rivale Ci avrai Pokémon a livello 10 Già Quindi Sarebbe anche il caso Di sconfiggere un po' di Pokémon Nel frattempo raga Vediamo cosa c'è Ho visto Hitmonlee Ho visto Golduck Non c'è nulla di particolare per il momento Questa ebola Allucinante Perfetto Raiorn No Non c'è nulla di Nulla di che in questa zona Mi sembra Non vedo assolutamente nulla di interessante No 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 Stalker 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 Guarda che roba Non ci credo Hitmonlee Beh cerchiamo l'ultimo raga Sì ma non c'è nulla A quanto pare Ok perfetto Saliamo anche a livello 11 Tanto vale ragazzi Poco male Tanto vi ricordo ragazzi Che non potrò catturarne di Pokémon In questa serie I Pokémon verranno ottenuti tutti Tramite il Pickup X Che utilizzerò all'interno Ok ragazzi Allora Prima di proseguire però Prendiamoci delle Delle pozioni Perché altrimenti schiattiamo male E Non ci sono pozioni Prendiamo gli antidoti E le antiparalisi Perfetto Oh direi di fare anche due antiscotature Perfetto Siamo diventati poveri come la merda Ma possiamo finalmente andare a affrontare il nostro rivale Allora Abbiamo solo Sidra È a livello 11 Io mi fido Sidra Forza Ce la possiamo fare Ehi Creepy Togliamo il cursore Stai andando alla Lega Pokémon Figuriamoci Senza neanche una medaglia Scordatelo La guardia non ti farà mai passare A proposito Sono più forti i tuoi Pokémon Ora Ho un altro Pokémon Vedi tu Comunque sì ragazzi Vi ho fatto saltare tutta la parte del pacco di Ock Perché Sarebbe stato un episodio senza morti A gratis Praticamente Ok fermi Ductrio E questo qua mi ricordo È un incubo per il Rochette Questo raga Lui lo sa perché Ok Ma brucia Guarda che Guarda Non lo avevo comprate io No Iniziamo Iniziamo molto male Iniziamo Clamorosamente Non morire Iniziamo Clamorosamente male Iniziamo Atrocemente male Io le avevo comprate Cioè Sono davvero così cretino Che Che non le ho comprate No No Non gli faccio una mazza Mamma mia Per fallback Muori 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 Ti prego Ok Ok L'ho battuto L'ho battuto Non ho perso Non ho perso nessuna vita Ho rischiato già la morte Civile proprio Ok No 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 Fatemi fuggire Vi prego Ok di qua c'è la lega Ok Ce l'ho fatta Perfetto Mi sto strozzando Con la mia saliva Mi piace sta cosa Io raga Le avevo comprate Ma come ho fatto Vuoi dire che Aspetta Quanto co Non avevo soldi La vita è una merda Ok ragazzi Io potrei ottenere Uno strumento Mia scelta Ma non ho ancora deciso Quindi ci penserò E mal che vada Lo prendo nel prossimo episodio Raga Nel frattempo qua abbiamo Il tutorial Forse Ok perfetto È vero che in questa Genova sono intelligenti Però raga Lì fermi tutti Perché alberello Vieni a me Ok gli strumenti Evidentemente non li ho randomizzati Perché questa qua Era una pozione Anche nella versione normale Perfetto Allora Sidra a livello O me li ha randomizzati Malissimo Oppure non li ho randomizzati Qua dovrebbe essere Il percorso di prima Quindi poco Dorebbero essere gli stessi Non è vero C'è un vapore Grazie per aver smentito così E per avermi fatto perdere Credibilità ai miei iscritti Ok sono tutti diversi Perfetto Mi fa davvero un piacere Della madonna Ok ragazzi Bosco Smeraldo Qua ci saranno Un botto di allenatori Con la potenza aumentata Aiuto Aiuto Ok seeking No fugga Ti prego Fugga Madonna Con l'attenzione Con questo Questo Fugga Che io fugga Si con questo Congiuntivo Dal nulla Però forse Qua Potrebbe avere anche Funzione Perché vi sto parlando Di analisi grammaticale Scusatemi Ok Primo pigliamosche Padre figlio Spirito santo Non credo in dio Ma ti prego Accendiamo il condizionatore Che sto schiattando Ok Cool 3 Non è cool trainer Non è femmina Soprattutto Ok livello 8 Perfetto Con molta calma Graveler Andato a casa Ah ne avevi due Non l'avevo visto Lo giuro Assorbe la luce No Ok Sidra Non è ancora Di tipo Ok Dicevo Sidra è ancora Solo di tipo Acqua Quindi quel solar range Mi avrebbe mandato A casa letteralmente Clay fairy Perfetto Levati Allora Ricordiamoci Che possiamo Tenere il nostro Strumento random Che per ora Sinceramente Non so cosa Possa essere Victribal Al livello Fottuto 9 Meno male Per forbecco Vai giù Oh Oh brutto colpo Che culo Che culo brutto colpo Ok perfetto Nidoran Livello 9 Giù anche lui Ottimo Ok Electabuzz È già più rognoso Fai fossa Calcio rullo Vai giù Ok Sidra Si è Si è drogato Che è successo Ha fatto due brutti colpi Praticamente di fila Comunque ragazzi Vi ricordo Che Innanzitutto Ho trovato un antidoto Gli strumenti Mi sono dimenticato Di randomizzarli Vi ricordo ragazzi Che la difficoltà aumentata Del 25% Vuol dire che ogni Multiplo di 4 Dei livelli dell'avversario Verrà aumentato Il livello Di 1 Quindi ad esempio Se Ad esempio Che esempio posso fare Non sono neanche sicuro Di quello che ho detto Che esempio posso fare Vabbè insomma Viene aumentata A cazzo Va bene Ok perfetto Bosco Smeraldo Ragazzi è andato via Liscio Like the olio Perfetto E siamo già arrivati qui Però ragazzi Io direi Che la prossima parte Ho visto che innanzitutto Non siamo morti Ragazzi È già un miracolo Però vabbè Dettagli Non siamo morti Abbiamo rischiato tantissimo Già adesso E ok Siamo arrivati a Plumbeopoli Ragazzi Per il prossimo video Avremo un Pokémon A disposizione Dal PKX Che ragazzi Ho deciso Che sarà Lo prenderò Tre livelli sotto Al mio Pokémon più forte Quindi sarà Livello 12 Detto già ragazzi Come primo episodio Direi che possiamo concluderlo Non prima però Di aver comprato Delle pozioni Non ho soldi Dio bono Ok Che bella la vita Ho solo due pozioni Per affrontare Brock Mi piace come cosa E devo cercare di non morire Detto già ragazzi Per il prossimo video Abbiamo a disposizione Quindi uno strumento A scelta Che vedrò di prendere E vi farò trovare Nella borsa Posso fare anche questo Col PKPX E un Pokémon Che potremo utilizzare Contro Brock In quanto Non siamo morti Per l'intero episodio Quindi avremo Nel prossimo episodio Tre vite Oggi non ne abbiamo perso Per l'appunto nessuna Sono contento Di come è andato Questo primo episodio È stato complicato Perché avete visto Che comunque I livelli aumentati Fanno il loro Ma ragazzi Staremo a vedere Che cosa succederà Detto già ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Se è così vi invito Come al solito Lasciate un bel mi piace Un commento qui sotto Rispondendo a nessuna Domanda del giorno Perché non c'è La domanda del giorno In questa serie Ma facendomi sapere Che cosa ne pensate Di questo primo episodio Ci terrei a sapere Ragazzi Riferito a quelli Che non erano sicuri Del progetto Se con queste nuove Migliorie Per voi Può essere migliorato Soprattutto per l'aumento Della difficoltà Visto che I dubbi Erano Per la maggior parte Sul fattore difficoltà Che effettivamente Rischiava di diventare Molto 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 basso Aumentando i livelli Comunque Su larga scala E andando più avanti La situazione si farà Molto più complicata E comunque Non mi stralivello Detto ciò Mi raccomando Passate anche dai social Per rimanere sempre aggiornati E premete la campanella Invece Per ricevere i feed Detto ciò Noi ci becchiamo In un prossimo Video In un prossimo